Io sono entrato in Ferragna grazie a dei cugini che già lavoravano in Ferragna, erano più di uno e quindi conoscevo la Ferragna molto bene in quanto era comunque l'azienda principe non solo della Valle Bormita ma io credo di tutta la Liguria, cioè un'eccellenza per la qualità della produzione che aveva e per la qualità dell'ambiente di lavoro che era poi quell'industria stessa e poi nel 1993 mi ricordo che in quegli anni la Ferragna aveva fatto un rinnovamento di personale dovuto naturalmente al raggiungimento dell'età pensionabile dei dipendenti in essere e quindi c'è stata l'opportunità come diplomato di entrare in Ferragna a fare i turni. Io ricordo molto bene il giorno in cui entrammo in quella fabbrica, in quell'azienda a fare la prova scritta, era una sensazione molto particolare, molto bella. Ricordo la grandissima soddisfazione che provai quando mi avevano detto che avevo superato le prove e che di lì a poco mi avrebbero chiamato per andare a lavorare. Ricordo il mio primo giorno di lavoro quando avevo saputo che ero al reparto A, quindi al reparto supporto, al reparto di colata, laddove chiaramente già si lavorava a luce bianca e quindi uno era un attimino un po' più sollevato perché è chiaro che lavorare al buio lì per lì se non lo si conosce spaventa. Il primo giorno di lavoro è un po' come tutte le prime volte, le prime volte sono sempre belle. Quando poi è una prima volta in uno stabilimento, in un'azienda che era un po' un posto ambito da tutti, ecco ci si sentiva proprio dei veri e propri privilegiati. Si era creato anche un reparto veramente straordinario con delle amicizie solide, amicizie importanti che ancora oggi coltiviamo, ci vediamo, facciamo cena, ci frequentiamo. La forza di Fragna mi avviso anche quella, oltre all'aspetto veramente puramente industriale e tecnico, aveva la capacità anche di creare degli ambienti unici che credo che oggi sia veramente difficile riuscire a creare o trovare da un'altra parte. La forza di quello stabilimento è un po' la forza di un'industria e anche i giorni nostri, il processo. Dove c'è un processo costruttivo c'è una forza. Se non c'è un processo costruttivo, un assemblaggio, un assemblaggio può essere come dire delocalizzato dall'oggi al domani. Un processo costruttivo è già difficilissimo progettarlo. È quella la forza di un'industria che può ancora oggi dare lavoro e dire la sua sul mercato. La forza è il processo, non c'è niente da fare. La forza è costruire e creare, non mettere insieme. E Fragna creava. Fragna dal nulla creava una fotografia, da niente, da una materia prima, solida, liquida. Da una lavorazione, da un impianto di abbattimento andava a creare solvente, recuperava. Ma c'erano degli impianti straordinari di dentro. Allora, io sono entrato in 3M appunto nel 1993 e come mansione naturalmente ero stato inquadrato come SOS. SOS. No, che a me non è mai piaciuta come definizione perché il SOS che cos'era? Era il sostituto. E ricordo che in quegli anni un po' anche mi spiacevano. Dico cavoli, a tutti hanno comunque dato una posizione e io invece continuo a girare in qua in là, non rendendomi conto che quella in realtà, lavorativamente parlando, era stata la mia fortuna. Perché io dopo 3 anni che ero a lavorare, mi trovai nella condizione di poter diventare capoturno, in soli 3 anni di presenza in stabilimento. Perché un capoturno andava in pensione, si sono trovati a dover incaricare un dipendente che avesse più o meno esperienza in tutte le sale ed ecco che mi chiamarono. Quindi io mi trovai anche in giovanissima età, 25-26 anni, 27, non ricordo più precisamente ad essere capoturno in Ferragno. Nel 1996 ci fu il passaggio in Emission, il primo spin off, non fu tanto come dire doloroso, in quanto cambiò la proprietà, ma per quanto riguarda il nostro lavoro non ci furono grossi cambiamenti. Il grosso cambiamento si iniziò a sentire quando avevano venduto la radio e quindi tutta la parte radiografica alla Kodak. Si narra che fu per una storia di spionaggio industriale, dicono in poche parole che Ferragno aveva chiesto consulenza a qualche tecnico americano che poi dopo in itinera avevano scoperto essere un ex dipendente Kodak ed ecco che riuscirono a tamponare la situazione vendendo la parte radiografica a Kodak. Quindi quella fu una mazzata o comunque una botta pesante per lo stabilimento. Personalmente avevo la passione e la vocazione di mettermi in proprio e quindi tutto sommato mi è andata male, ma non così male perché ho avuto la possibilità e ci sto lavorando ancora oggi di far crescere la mia azienda. Credo che però la questione Ferragno si potesse gestire anche diversamente. Mi sembra strano che un'industria con quelle maestranze, con quella capacità intellettuale e non solo, sia andata a finire nel nulla così. A mio avviso la possibilità di fare qualche cosa c'era. Chi ha mancato? Non lo so. Non so se è il gruppo dirigenziale piuttosto che la casa madre, piuttosto che chi. Non ho la capacità di capire quello. Certamente mi sento di dire che il gruppo sindacale in quella situazione ha veramente fatto acqua, ha veramente fatto ridere. Perdonatemi, il linguaggio terra a terra ma rende l'idea. Quella è stata una bugna, è stata una bugna pesante, è stata una bugna pesante che vediamo ancora oggi, in quanto tanti lavoratori non sono ancora ricollocati. È una bugna sociale. Io ci passo spesso perché è comunque un bel ricordo. È come andare a trovare un amico al cimitero che non c'è più, però un amico a cui tu hai voluto tanto bene e ogni tanto devi andare a vederlo. Per quanto non ci passi in macchina, non ti fermi, mi piacerebbe farci un giro ancora dentro, a parte il fatto che il nostro impianto l'hanno distrutto, non c'è più, l'hanno smantellato e come ripeto, ci è rimasto un affetto, un legame con quello stabilimento. Perché quello stabilimento ci ha dato la possibilità al suo interno di crescere, di crescere lavorativamente parlando, ma soprattutto di crescere come persone, di coltivare delle amicizie, di aver creato veramente un gruppo straordinario. E pensarla vuota, boh, mi fa veramente una grande malinconia.